Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Il Desiderio Sincero. Spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale YouTube Savinotesse attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. Ogni umano ha un desiderio che è la pace viva e vera e combatte in ogni momento per affermarla. Quindi il desiderio sincero dell'umanità è quello della pace, di vivere con la calma, degne atmosfere ricche di pace. Ogni vivente quindi desidera questo sogno grandioso, di stare sempre in pace, di vivere un impegno forte e sincero, di essere convinti e lodare grandiosamente il Signore per questo dono che abbiamo ricevuto. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Il Desiderio Sincero. Ogni umano ha un desiderio che è la pace viva e vera e combatte in ogni momento per affermarla nella sua atmosfera. Ogni vivente desidera pace e per essa gioirebbe davvero, per vivere come a tutti piace, col suo amorgoglio limpido e puro. Il desiderio dell'uomo è un impegno sincero per la pace nel mondo che sia un dogma serio e convinto. Bisogna lodare grandiosamente i puri e ricchi in cuore di quella saggezza veramente ricca di ogni lieto vigore. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci. Grazie.